Il nuovo tracciato di prolungamento della tangenziale di Voghera, dalla rotatoria tra Voghera e Ponte Curone fino all'innesto con la direttrice Voghera-Rivanazzano, è oggetto di discussione, causa l'impatto ambientale che ne deriva, nonché l'effettiva necessità di realizzazione relativamente ai flussi di traffico previsti. Legato a questo progetto vi è anche la realizzazione di una gigantesca cava alle porte di Voghera che preoccupa non poco le forze politiche ed i privati cittadini. Con Sergio Vitellini che è consigliere comunale al Comune di Voghera per Rifondazione Comunista e con il segretario di Rifondazione Comunista Enrico Grassi della sezione di Voghera parliamo del problema della tangenziale, la nuova tangenziale di Voghera che sarebbe il nuovo tracciato che si vuole proporre per in questo caso deviare un ipotetico flusso di traffico verso sud. Che vantaggi e che svantaggi ci sono visto che siete per il comitato del no, chiamiamolo così? Sì, diciamo che non c'è un vero e proprio comitato del no però attorno a questa vicenda sono raccolte 1200 firme di cittadini che hanno espresso l'espressione contraria a questo tipo di viabilità. Diciamo che siamo contrari perché a oggi il Comune di Voghera non ci ha forniti, neanche la provincia, non ci ha forniti i piani dei flussi di traffico che è la base principale per stabilire se una strada di questo tipo debba essere fatta o meno. Dal momento che non ci sono queste valutazioni anche di impatto ambientale e riteniamo anche come zona una zona agricola importante per quanto riguarda le nostre città, siamo contrari. Possiamo anche ripensarci se ci forniscono dei dati, ad oggi non sono ancora venuti questi dati. Quindi ci siamo espressi in modo contrario al Consiglio Comunale. E per quanto riguarda invece la problematica legata a una cosa che potrebbe diventare utile cioè il terzo ponte di attraversamento sullo Stafora? In questo caso parlo non solo come segretario di Fondazione Comunista ma anche come abitante di Riva Nazano. Il discorso del terzo ponte è un'ipotesi avvallata e presentata dal sindaco di Riva Nazano di cui però non esiste né un progetto né un piano fattibile. Oggi quello che noi conosciamo è un progetto che porta il traffico dalla tangenziale esistente fino alla strada di collegamento Voghera-Varsi e lì si ferma. A questo punto il traffico per proseguire verso sud rientra come succede attualmente all'interno del Comune di Riva Nazano e passando per il centro di Riva Nazano. Quindi se vogliamo ben vedere Voghera potrebbe trarne un qualche vantaggio perché comunque evita una parte del traffico Riva Nazano invece si trova assolutamente con nessun vantaggio anzi probabilmente c'è un'ipotesi di incremento del traffico pesante che utilizzando questa tangenziale poi percorrerà le strade del centro di Riva Nazano. Quindi diciamo in teoria si evince anche un pochettino che non è che siate totalmente contrari ma avete delle proposte da fare per migliorare eventualmente questo tipo di soluzione. Oggi le proposte si fanno se da parte dell'amministrazione vengono delle carte che fino ad oggi non sono venute però mi riferisco appunto ai flussi di traffico legato a queste vicende però si è scatenata anche una polemica anche forte perché adiacente alla tangenziale c'è questa cava di ghiaia che è stata votata dall'amministrazione provinciale dalla maggioranza e l'unico partito che ha votato contro il piano cave provinciale è il nostro è il nostro proprio perché mancano i presupposti a livello provinciale di uno studio sul territorio sull'estrazione di argilla per la costruzione per i mattoni e quindi di conseguenza noi abbiamo dato un parere negativo oggi gli stessi che hanno votato favore a livello provinciale si scandalizzano perché c'è questa cava che è effettivamente di impatto molto rilevante che però rispetto alle altre risulta anche meno invasiva rispetto a quelle altre cave che ci sono vicino al nostro territorio. quindi sulla cava una chiusura totale diciamo ma il nostro discorso, la nostra posizione sulla cava è di preoccupazione per il fatto che il momento stesso in cui la cava dovesse partire stiamo parlando di un grosso flusso di traffico di mezzi pesanti che sono destinati a portare via la ghiaia e riportare terreno in linea di massima proprio perché lo scopo di questa cava è scavare un metro di terreno e poi un metro di ghiaia e poi ricoprirlo con terreno che può diventare a quel punto coltivabile agricolo non è di completa negatività resta il fatto che anche in questo caso ci pare che sia stato dato un parere favorevole senza andare a valutare a fondo gli impatti sul traffico stiamo parlando di un flusso di 2.000-2.500 mezzi pesanti all'anno che bene o male dovranno passare da un allato sulla tangenziale ipotetica e dall'altro sulla strada che congiunge Voghera-Rimanazzano. grazie 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 grazie